Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Ragazzi torniamo a parlare di MotoGP e lo facciamo facendo la nostra consueta classifica dei top e dei flop del weekend di Moto Mondiale il weekend di Jerez si è corso una gara molto molto adrenalinica ne abbiamo viste tante di battaglie interessanti e quindi non perdiamoci in chiacchiera andiamo subito ad analizzare i top di questo weekend pilota per pilota e chiaramente dobbiamo partire da Bagnaia Bagnaia che sicuramente è stato uno dei due MVP di questo weekend non vi spoilerò l'altro ma anche se è molto molto prevedibile però Pecco Bagnaia ha fatto veramente un weekend superlativo bravo 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 perché ha vinto una gara che era molto complicata lui analizzando il suo weekend non è partito benissimo perché le prove libere lo hanno visto comunque in difficoltà le qualifiche sono state complicate perché lui è dovuto partire dal Q1 quindi c'è stata comunque l'ansia di non passare il taglio cosa che ha colpito Bezzecchi e quindi sicuramente ripeto il weekend non è partito nella maniera più positiva possibile però Bagnaia sa di avere un mezzo di altissima qualità sotto al sediolino e quindi sa che se riesce a essere cauto, tranquillo e riesce a metterci quella tattica che lui di solito riesce sempre a metterci in ogni Gran Premio riesce a fare delle cose magiche quindi è stato veramente molto molto bravo ha fatto un ottimo podio durante la sprint ha fatto una grandissima vittoria durante la gara della domenica perché battere queste KTM era veramente complicatissimo la KTM aveva azzeccato un setup favoloso per il weekend di Jerez erano veramente delle moto imprendibili e quindi riuscire a batterle è stato veramente un grandissimo capolavoro è stato veramente bravo e da un certo punto ha anche rischiato di perdere l'opportunità di andare a vincere questo weekend con la penalità, quell'imprevisto che c'è stato appunto nel contatto con Jack Miller, il suo ex compagno di squadra c'è stato un contatto, lui ha dovuto restituire a un certo punto la posizione chiaro, questo non comporta tanto fastidio per quanto riguarda la lotta al secondo posto quindi una lotta con lo stesso Jack Miller perché comunque c'erai lì a un tiro di schioppo ma poteva essere molto molto complicato dopo andare a prendere Brad Winder che era in stato di grazia perché stava volando con la sua KTM quindi una penalità che adesso non saprei dirvi sinceramente se è assurda, se è giusta perché comunque è stato un contatto furioso è stato un contatto sporco ecco, un sorpasso sporco quello di Pecco nei confronti di Jack Miller ne abbiamo visti di tanti di questo tipo di sorpassi nelle storie, no? nelle storie dei vari Gran Premi del Moto Mondiale però ci può anche stare ecco un drop di questo tipo perché Miller ha perso comunque terreno ha perso la chance ecco di fare un corpo a corpo a serio con Pecco Bagnaia quindi ci può anche stare e poi diciamo che la chiave del weekend è stata la gestione gomme veramente nessun altro pilota è bravo come Pecco Bagnaia nella gestione gomme una volta vi avrei detto se fosse rimasto in Suzuki Mir è il pilota più forte di tutti nella gestione gomme ebbene vedendo i disastri che sta combiando Mir e dopo ne parleremo e vedendo le cose egregie che sta facendo negli ultimi anni Bagnaia con la sua Ducati devo dire che Bagnaia è veramente cresciuto tantissimo nella gestione gomme quindi bravo 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 Pecco ma bravissimo anche il secondo MVP di questo weekend ossia Dani Pedrosa Dani Pedrosa è assolutamente un pilota fantastico sottovautatissimo ha avuto la sfortuna Dani Pedrosa di nascere, di correre ecco in un periodo in cui era veramente complicatissimo dire la sua perché c'erano piloti molto più forti di lui c'era Valentino Rossi, c'era Marc Marquez, Orgo Lorenzo, Casey Stoner quindi era veramente complicato per il piccolo Dani Pedrosa riuscire ad emergere insomma in tutto questo ben di Dio che la MotoGP poteva offrire a noi spettatori però Dani Pedrosa ha 37 anni fuori da tanti anni ormai dal giro delle MotoGP quindi non ha letteralmente il ritmo gara è riuscito a fare un weekend che tanti altri piloti che invece hanno il ritmo gara che sono allenatissimi non potrebbero mai sognare di fare quindi veramente è fantastico Dani Pedrosa già a partire dalle FP1 si era capito che Dani Pedrosa aveva qualcosa in più degli altri in questo weekend e sono veramente fantastico sono veramente bravissimo ha 5 anni dal ritiro ragazzi tornare in pista e chiudere settimo in gara per poi non contare ovviamente quello che lui ha fatto di spettacolare durante la sprint e durante le qualifiche stesse vuol dire che veramente questa è roba forte vuol dire che sei un gran pilota e lo sarai comunque per sempre Dani Pedrosa ha dentro qualcosa di magico e io aggiungerei una provocazione se questo è Dani Pedrosa in formato wildcard in formato collaudatore che diventa pilota per un gran premio ragazzi io faccio una provocazione ma Valentino Rossi se dovesse essere nominato wildcard che cosa andrebbe a fare con una moto con setup giusto come l'ha avuto appunto Pedrosa con una KTM veramente in stato di grazia io credo che anche lo stesso Valentino potrebbe assolutamente dire la sua ancora una volta in questo moto mondiale molti hanno aperto comunque una disammina sul fatto che Pedrosa è stato competitivo e il fatto stesso di un Pedrosa competitivo poteva anche far capire che c'è mancanza di talenti veri nel moto mondiale perché se addirittura Pedrosa che sia un talento ma è un collaudatore riesce a fare questo tipo di prestazioni vuol dire secondo tanti che non ci sia grande talento in questo moto mondiale io non sono d'accordo non sono d'accordo credo che i talenti ci sono i talenti ci sono è veramente che Pedrosa ha azzeccato un setup favoloso con la sua KTM andava fortissimo la moto e quindi lui che è già un grandissimo manico di suo è riuscito a fare un weekend favoloso favoloso anche Brad Binder è stato veramente un duro Binder incredibile quanto il sudafricano sia sottovalutato secondo me per me è un pilota davvero fortissimo e lo dico veramente da tempo immemore ecco non certo dopo la gara di ieri quindi io ho anche detto che Binder è un pilota difficile da perdere per la KTM quando appunto è uscito il video sul canale che riguardava la possibilità di un trasferimento Mark Markets KTM io ho detto ma sicuri che KTM voglia prendere Mark Markets comunque perdendo un talento come Brad Binder perché Binder è veramente un pilota fortissimo io ho detto non sono sicuro ecco che il gioco di prendere Markets valga la candina io questa è la mia opinione però dopo la prestazione di ieri sono ancora più convinto che questo Binder deve essere assolutamente il pilota trainante del mondo KTM quindi veramente è una bestia questo ragazzo se guidasse una moto più costante potrebbe davvero fare sfracelli provate a immaginarvelo e dico solamente questo al fine della sua valutazione immaginarvelo su una Ducati come farebbe il diavolo A4 questo ragazzo quindi veramente speriamo che KTM abbia ingranato per davvero e che non sia veramente solamente un fuoco di paglia come ad esempio accadde nel 2020 o negli anni comunque passati perché KTM spesso ha fatto così ha indovinato dei weekend mostruosi a dei weekend dove scompargono scompargono letteralmente quindi speriamo che KTM abbia ingranato la quinta e perché si è ingranato la quinta ragazzi Binder ma anche l'altra belva Jack Miller possono veramente essere dei piloti guastafeste ecco nella lotta ipotetica al mondiale e quindi passiamo alla valutazione anche di Jack Miller altro top di questo weekend perché all'australiano va l'Oscar per lo stile di guida più divertente e eccitante veramente un vero figo un vero figo Jack Miller anche se talvolta questo suo spirito libero lo porta in precisioni varie che poi a fine gara si tramutano comunque o in sbavature decisive o magari in posizioni ecco non troppo elettrizzanti però Miller è sicuramente una grandissima personalità e lo avevo detto anche questo nel video di Mark Markets perché ho detto non penso proprio che KDM andrà a sacrificare Jack Miller in quanto Jack Miller è un pilota trainante è un pilota che veramente attira tanta tanta tiposeria proprio per il suo stile che è un stile molto figo ecco quindi attira molto pubblico Jack Miller e quindi se proprio devi andare a sacrificare qualcuno a malincuore dovresti sacrificare Binder ma il gioco vale la candela quindi ripeto il passaggio di prima Miller si è dovuto accontentare di un terzo posto però cavolo ragazzi qualcuno dovrebbe andare a spiegarmi Jack Miller perché secondo tanti era un pilota finito è veramente un gran bel pilota questo ragazzo e in KDM io ero convinto potesse dire la sua l'unico dubbio che avevo io è sulla qualità della moto e quindi speriamo che KDM abbia ingranato la quinta e speriamo anche che possa trovare un minimo di costanza in più un altro top di questo weekend ossia Jorge Martin Jorge Martin è un pilota molto incostante ha dei picchi altissimi con una qualità veramente mostruosa di guida uno dei piloti più talentuosi da questo punto di vista del Circus però ha anche dei momenti di down veramente terrificanti la giornata di ieri è stata una giornata molto interessante da questo punto di vista perché Jorge Martin ha guidato bene sembrava una tigre comunque capace di andare a sbranare tutto ciò che aveva davanti ha retto il ritmo a un certo punto di Pecco Bagnaia però gli manca ancora qualcosina quindi è una tigre che sta per mangiare la preda ma poi al colpo decisivo non riesce a affondare gli artigli quindi è un pilota che gli manca qualcosa in questo momento quindi questa è la differenza secondo me fra lui e Nea Bastianini Nea Bastianini è una gemma una gemma che in questo momento riesce a capitalizzare con tutto quello che riesce a fare invece Jorge Martin gli manca ancora qualcosina forse gli manca uno step forse questo anno in Ducati Prama che gli farà bene perché deve ancora affinare la sua tecnica la sua classe perché in quanto ha talento questo è un pilota veramente fortissimo veramente fortissimo però forse gli manca qualcosa ancora gli manca ancora quel guizzo quel guizzo che poteva portarlo al podio nella gara di Jerez cosa che invece non è riuscito ad ottenere però comunque è un weekend positivo per quanto lo riguarda è un weekend dove Jorge Martin ha fatto ancora vedere la supremazia della Ducati per quanto riguarda il mezzo a disposizione del Circus è veramente ancora la moto più forte di tutte questa KTM dobbiamo vederla sul lungo tempo perché non so ecco se sarà costante come questa Ducati Jorge Martin ottimo weekend da parte sua e ti è mancato comunque il colpo finale però tutto sommato ha fatto un weekend super positivo e bene anche Luca Marini Luca Marini sempre più costante in gara sempre più credibile per stare lì davanti a lottare con i primi e attenzione perché Luca Marini ancora una volta ha battuto Bezzecchi noi abbiamo sottolineato spesso quando Bezzecchi batteva Marini ma a volte sottovalutiamo ecco il contrario Bezzecchi è caduto è incappato in un weekend orrendo da questo punto di vista sia da un punto di vista della classifica piloti ma anche da un punto di vista della sfortuna perché è stato orrendo il weekend di Bezzecchi contatto durante la sprint contatto durante la gara quindi veramente è stato un pilota sfortunatissimo da questo punto di vista quindi non possiamo giudicarlo flop proprio per questa sfiga che gli è piombata addosso a Gerez però Luca Marini intanto è riuscito a portare a casa un weekend molto più concreto e lo abbiamo visto già a partire dalle qualifiche perché in qualifica Luca Marini è riuscito a mettere la moto molto più avanti di Bezzecchi quindi è sicuramente una valutazione positiva che dobbiamo tenere assolutamente in conto positivo anche il weekend di Nakagami ed è l'ultimo top di questo weekend Nakagami è stata la prima onda alla bandiera scacchi quindi bene bene non è caduto rispetto alle altre onda sul tracciato peccato che si tratti solamente di un nono posto però per Nakagami sicuramente è un risultato più che buono vedendo quello che è stato ecco il suo trend nelle ultime gare quindi dobbiamo sottolineare anche quando Nakagami riesce a fare dei weekend positivi e si è messo comunque davanti a piloti che sulla linea sulla carta dovrebbero andare più forti di lui mi riferisco a Dijan Antonio ad esempio lui comunque è riuscito a mettersi davanti a una Ducati del team Gresini quindi comunque nel suo piccolo ha fatto il weekend che doveva fare quindi molto molto positivo e già il fatto che è stata la prima onda alla bandiera scacchi è sicuramente un merito molto importante partiamo adesso con i flop e i flop non possiamo non partire da quello che sta scatenando il putiferio in questo momento Geres è stato un weekend decisivo per quanto lo riguarda attenzione al futuro di Fabio Quartararo Fabio Quartararo ha trovato un weekend veramente negativissimo male in qualifica male durante la sprint male durante la gara quindi è sicuramente un pilota che non riesce in questo momento a fare più di quello che la moto gli permette vedendo anche le performance di Morbidelli sappiamo quanto questa Yamaha sia poco competitiva e questo lo sta facendo sbottare agli occhi di noi tifosi fa tenerezza vedere un Quartararo che si sbatte così per le posizioni meno prestigiose della zona punti però agli occhi sui è veramente una cosa che fa male perché Quartararo è un pilota che è in merito di lottare sempre per il mondiale un talento grezzo un pilota fortissimo però questa Yamaha deve assolutamente lavorare di più perché è inconsistente da questo punto di vista tra l'altro Quartararo ha sbottato in questo weekend e potrebbe essere un weekend decisivo per il suo futuro perché Quartararo si è lamentato tantissimo ha detto qui vedo troppe facce tranquille qui vedo troppi meccanici rilassati nessuno si incazza e uso proprio il termine che lui ha usato nessuno si incazza qui tutti dormono chiaramente farò un focus su Fabio Quartararo durante questa settimana perché dobbiamo assolutamente parlare del futuro di The Dead del Diablo perché è un pilota che in questo momento è più out dal mondo Yamaha più che in quindi attenzione veramente a Fabio Quartararo ma riprenderemo il discorso in un focus che uscirà in questa settimana e poi Michele Oliveira Michele Oliveira sarà oggetto di uno short che uscirà domani perché dobbiamo fare uno short che riguarda le sue condizioni fisiche però ragazzi Michele Oliveira è veramente il pilota più sfigato dell'anno è veramente il pilota più sfigato dell'anno lui credo che vincerebbe il premio di pilota più sfigato dell'anno perché o se no è talmente sfigato che forse non lo vincerebbe neanche quindi no sdrammatizzo perché è veramente incredibile è incredibile alla prima gara a Portimao lui era molto competitivo Mark Marquez lo centra e lo porta out per tanti weekend adesso ritorna a pieno regime potrebbe dire la sua perché la sua Aprila RNF era molto competitiva centrato la quarta raro e penalità per il Diablo quindi veramente lui si fa male e si fa male forse in maniera anche importante quindi veramente poi ne parleremo nello short a lui dedicato però veramente Michele Oliveira è un pilota sfigatissimo in questo inizio di stagione è un pilota tanto veloce quanto sfigato quindi veramente è una tragedia ecco questo inizio di campionato per Michele Oliveira sotto l'aspetto degli infortuni ma sotto l'aspetto della velocità deve essere contento perché è un pilota super competitivo purtroppo che lo centrano tutti quindi veramente è un pilota molto molto sfigato e lo dobbiamo mettere fra i flop perché poteva essere il suo weekend però cavolo che sfiga per questo ragazzo quindi veramente incredibile flop anche Mir Johan Mir è sicuramente una delle delusioni più cocenti per quanto mi riguarda perché gli ultimi anni non ne sta azzeccando uno questo ragazzo forse o l'ho sopravvalutato io non lo so perché io l'ho sempre reputato un pilota top l'ho sempre reputato un grandissimo pilota ero convinto che in casa Honda potesse dire la sua in quanto lui è molto bravo ad adattarsi ad ogni tipo di contesto ad ogni tipo di moto non ha bisogno di dei setup specifici non ha bisogno di aggiornamenti specifici perché lui è un ragazzo che riesce a trovare la quadra molto in fretta non la riesce a trovare in casa Honda quindi io presumo sia un problema pesante questo per la Honda perché non riesco a credere a un Mir che è diventato pippa che è diventato scarso da un momento all'altro cade sempre forse perché è costretto a spingere la sua moto sempre al limite però cavolo questo ragazzo veramente non è stata zaccata una e merita ovviamente di finire fra i flop ultimo flop anche ovviamente Maverick Vignales Maverick Vignales che sono sfortunato in gara si è rotta la catena e quindi ritiro sfortunato per lui ma non stava comunque facendo un weekend entusiasmante era un weekend comunque al di sotto delle performance di Alexia Spargaro quindi è sicuramente già a partire dalle qualifiche è stato un weekend al di sotto rispetto ad Alexia Alexia ha fatto la pole position lui si è classificato ottavo chiaramente non stava zaccando un grande weekend Maverick Vignales poi è stato sfortunato ovviamente per l'inconveniente alla catena che l'ha portato a ritiro però il suo weekend è da flop rispetto alle performance di Alexia Spargaro ragazzi questa è la mia classifica dei top e dei flop i promossi e i bocciati voglio sapere la vostra nello specifico parliamo ancora di questo weekend ragazzi ditemi la vostra nei commenti perché sono molto curioso di sapere la vostra nello specifico mettete like se non potete perdere nessun altro aggiornamento sui miei video futuri ragazzi vi saluto ciao a tutti da domenica versa ciao a tutti raga